Ma ciao gente, che si racconta? Sapete che nel mondo abbiamo almeno sette sosia? Esatto, sette persone con il nostro aspetto. Per fortuna non con il nostro carattere, immaginate che bordello trovarne un altro che fa le nostre stesse cose. Comunque alcuni sono i doppioni, diciamo, di famose celebrità e hanno deciso di sfruttare questa cosa al loro vantaggio, diventando famosi a loro volta utilizzando i vari social come ad esempio TikTok, che in questo anno sta esplodendo come piattaforma. Vi ricordo che potete trovare anche il mio canale ufficiale su TikTok, di cui vi lascio il nome in descrizione nel caso vogliate vedere altre mini-top da pochi secondi. Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo a vedere i sosia delle celebrità più famose su TikTok. Arianna Grande Cominciamo proprio in bellezza con una delle giovani cantanti del momento, Arianna Grande, che ha conquistato sia piccoli che grandi con la sua incredibile voce. La sua controparte invece non è proprio una cantante, ma una ragazza che la ama alla follia. Così tanto da aver scoperto che legandosi i capelli e usando il trucco giusto può somigliarle senza alcun problema. Paige Neiman ha più di 2 milioni di follower su TikTok, per le sue esibizioni, se così vogliamo chiamarle. Dove però utilizza la voce di Kat in Victorious. Anche Arianna Grande l'ha notata, ma si è lamentata perché non le fa affatto piacere vedere una persona che imita la vocina di Kat, che sembra non piacerle per niente, in effetti un mix stranissimo. In pochissimo tempo è riuscito a farsi vedere perfino in tv, in alcuni talk show. Ad oggi in molti le fanno richiesta per vederla e intervistarla e sembra che di tanto in tanto riproduca anche le copertine degli album di Arianna Grande. Ovviamente anche le critiche ci sono, in tanti le chiedono di essere più originale e se stessa, ma lei ha risposto che è diventata così famosa solo grazie al fatto che somiglia alla celebre cantante, se no non l'avrebbero minimamente notata, nemmeno gli hater. Dove Cameron Alyssa McKay ha detto che si è semplicemente ispirata a tutti gli altri sosie di celebrità per creare la sua pagina e iniziare a farsi notare come la doppiona di Dove Cameron, cioè è una delle star di Descendants. Ovviamente molti dicono che queste somiglianze siano l'unica ragione per cui è famosa, e lei non nega niente, perché sicuramente ha più fama degli hater che le danno addosso. E anzi, ora più che mai ha cominciato a imitarla sempre di più, e se questa cosa la farà andare sempre nei per te, meglio così. Camilla Cabello Selina Sharma non soltanto somiglia alla famosa Camilla Cabello, ma è anche una cantante discretamente famosa per la sua incredibile voce e ha un canale YouTube dove appunto posta musica. Nonostante in parte Canora si sia ispirata a Rihanna e Beyoncé, il suo fisico ammette pure lei che è quello della famosa cantante di Havana, o almeno il suo volto. Le labbra e le sopracciglia in particolare non lasciano spazio a dubbi, ma alcuni pensano si è riuscito a diventare famosa nella musica solo grazie a questa somiglianza. Eppure la critica la pensa diversamente. Con le produzioni giuste potrebbe essere davvero la nuova Camilla. Per ora siamo solo all'inizio, chi lo sa, a volte per strada la confondono pure per Selena Gomez, ma questa è un'altra storia. Emma Watson Non dico che l'utente Kylie Stocks somiglia a Emma Watson, ma se dovesse esserci un reboot di Harry Potter potrebbe benissimo fare la parte di Hermione senza problemi, perché in realtà è uguale a questa famosa maga della TV. Sulla sua pagina TikTok ha più di 500.000 iscritti, una prova inconfutabile che dimostra come la gente apprezzi i sosia della celebrità. Ha 17 anni ed è molto attiva sui social, ma la cosa particolare è che non le interessa per forza far vedere in ogni video che è uguale a qualcun altro. Anzi, fa un po' di tutto. Si diverte e basta, tipo appiastrare i capelli dei suoi amici a scuola o reagire ai video di altri. In realtà sembra dica spesso di somigliare anche a Bella Thorne. Insomma, dice di essere un mix tra due famose celebrità del mondo dello spettacolo e come darle torto. Meghan Trainor Svegliarsi la mattina e vedere somiglianze con una famosa celebrità può essere divertente, ma Taylor Bayer vuole assolutamente sfruttare questa somiglianza con Meghan Trainor per diventare famosa anche lei con la sua musica. Infatti abbiamo un'altra cantante nel gruppo che, secondo le sue parole, non somiglia soltanto di fisico a Meghan Trainor ma pure di voce. Ha iniziato a studiare musica al college e un giorno spera di andarsene a Los Angeles per far partire la sua carriera. Grazie a una challenge a cui aveva preso parte su TikTok è riuscita a farsi notare. E ha sia una pagina Instagram che un canale SoundCloud se siete interessati. Sicuramente le farebbe piacere ricevere altri commenti e altro sostegno. Johnny Depp Di solito i cosplayer più in gamba sono in grado di riprendere perfettamente le sembianze di Johnny Depp come Capitan Sparrow, ma raramente si vedono persone simili se non uguali a Vampy Jordan, un utente TikTok che non ha bisogno di fare cosplay per far notare la sua somiglianza con il famoso attore. E con Jack Sparrow volendo. È molto popolare sui social. E spesso è nei per te e i commenti che si trova sono sempre gli stessi. Ehi, ma non assomigli un po' a Johnny Depp? Di tanto in tanto si veste e usa le stesse movenze dell'attore, ma preferisce cose sue per lo più recidando e imitando. A quanto pare è anche un amante di Call of Duty e delle partite competitive online. P.S. ha anche lo stesso tatuaggio di Johnny Depp sulla mano, essendo un suo grande fan. Salman Khan Come sappiamo bene, TikTok è dominato dagli indiani e dalle loro incredibili performance di ogni genere. Anzi, per lo più sono loro che fanno partire i trend e in tanti si mettono dietro cercando di imitarli. E altri invece li prendono anche un po' in giro, ma questa è un'altra storia. Proprio perché TikTok è per la maggior parte composto da persone di nazionalità indiana, abbiamo moltissimi utenti che somigliano a celebrità di quel paese. Ma forse il più famoso è un account verificato con quasi 3 milioni di follower, chiamato Najim Khan. L'uomo è famoso per essere il sosia di Salman Khan, ma non a caso in effetti. Il fisico, il volto e a volte anche le movenze ricordano il famoso attore, con giusto qualche piccola differenza. Beh, magari il fisico c'è ancora molto da lavorarci su, eh? Su questo punto non saprei di preciso cosa dire perché sono in una via di mezzo. Da una parte, Anna Powell sembra somigliare alla famosissima Billie Eilish, cantante apprezzata specialmente dai giovani adolescenti nel mondo, dall'altra invece non vedo grandi somiglianze. Eppure i commenti che riceve su TikTok sono sempre gli stessi, cioè che somiglia a Billie. Ma voi che dite, per ora ha 47.000 follower e non sembra tanto interessata ad essere riconosciuta solo come una sosia. Comunque è una grande fan come tanti altri e ha riprodotto le pose più famose in un piccolo video. C'è da dire che per ora ha anche pochi video sulla piattaforma, quindi è normale in fondo che abbia pochi follower. Kylie Jenner Con più di 150 milioni di follower su Instagram, Kylie Jenner è l'idola di tantissime ragazze nel mondo, che cercano di somigliarle il più possibile. Ma una fan in particolare sembra abbia superato la quarta dimensione per diventare così una sosia quasi uguale a lei. Kristen Hencher ama postare video su TikTok. In tanti hanno notato l'incredibile somiglianza di questa ragazza a Kylie. Ad oggi ha più di 20 milioni di follower su TikTok, quindi non sono l'unico a dire certe cose. È molto ma molto conosciuta come avrete capito. Ha anche fatto molti video e molte foto in cui imita le stesse pose della famosa modella. E alcuni si sono chiesti se non fosse davvero una sorella delle Kardashian. Dispersa da tempo. Le movenze di Kristen comunque non sono solo banali imitazioni, lei dice di essere nata per fare la modella e ha sempre avuto questo talento, ma non si mostra solo truccata. Spesso posta video anche dei suoi vari cosmetici e su come li applica in volto. Victoria Justice Somigliare a una sola celebrità è sicuramente assurdo, ma Ellie riesce a fare l'incredibile diventando un mashup tra ben due persone famose. Infatti sembra la figlia di Victoria Justice e Evan Jogia, entrambi personaggi della serie TV Victorious. Insomma, se avessero una figlia sarebbe veramente molto simile a questa ragazza che postando soltanto un video ha attirato una discreta attenzione agli inizi su TikTok, che faceva addirittura sperare in un ritorno della famosa attrice. Non avremo mai una riunione dei personaggi storici della serie, ma a quanto pare possiamo trovare tanta gente in giro che li somiglia, ed è forse il massimo che ci si può aspettare. Shawn Mendes L'utente Nick Kent su TikTok ha più di 800.000 follower e secondo le sue parole è una combinazione tra Shawn Mendes e Nick Jonas, con gli occhi di quest'ultimo ai capelli del primo cantante, ma secondo i suoi follower è più vicino a Shawn Mendes, compreso l'imponente mento. Sembra su Instagram posti di tanto in tanto canzoni con la sua voce, quindi si dà da fare anche in quel campo, sfruttando queste sue somiglianze a suo vantaggio. Nancy Wheeler La famosissima Nancy Wheeler deve la maggior parte del suo successo alla saga di Stranger Things, che è davvero piaciuto a tante persone, con visualizzazioni record nella terza stagione. Per questo motivo i suoi cloni nel mondo non si sono fatti attendere e sono venuti fuori allo scoperto, insieme a lei. Ed eccovi l'utente TikTok Desiree, che con la sua incredibile somiglianza all'attrice in questione, ha guadagnato la bellezza di 174.000 follower e passa. È una fan della serie Stranger Things e ti tutti i suoi protagonisti, ma non ha mai voluto somigliare per forza a Nancy. Ci è nata con quel volto, e in effetti sulla sua pagina non ci sono molti riferimenti a questa cosa, tranne un paio di video. Le loro somiglianze riguardano per lo più la sagoma del viso e per i capelli, mentre le sopracciglia sono tutt'altra storia. Tony Stark Per concludere abbiamo NY Tony Stark, utente su TikTok famosissimo tra tutti gli amanti di supereroi per la sua somiglianza incredibile con Robert Downey Jr., nella parte specialmente di Tony Stark. Spesso finisce pure nella mia pagina dei per te e devo dire che è ugualissimo. La sua somiglianza con i cosplay raggiunge fette così alte che la gente lo confonde sempre quando lo vede per strada, e a lui non dispiace affatto la cosa. E con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e magari arriverà una seconda parte, sappiate che esiste anche il clone di Tom Holland. Vi ricordo come sempre di fare un bel giretto sulla pagina di Gaming Ufficiale per tante altre top e video di gameplay, noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.